E' credibile che sia partito dalla Calabria l'ordine di uccidere Marcello Bruzzese di 51 anni, originario di Rizziconi, assassinato la sera di Natale a Pesaro e fratello del collaboratore di giustizia Biagio Girolamo. E' quanto si è appreso in ambienti della DDA di Reggio Calabria diretta da Giovanni Bombardieri che sin dai primi momenti successivi all'omicidio si tiene in in stretto contatto con la DDA di Ancona e con la procura di Pesaro e Urbino. L'ipotesi che il mandato di morte contro Bruzzese sia maturato in Calabria e che i due esecutori materiali dell'omicidio provenissero proprio da questa regione viene ritenuta assolutamente fondata a livello giudiziario ed investigativo. I contatti in corso tra le procure antimafia di Reggio Calabria e di Ancona hanno proprio lo scopo di ricostruire la personalità della vittima e del fratello oltre che di verificare le modalità organizzative ed esecutive dell'uccisione di Marcello Bruzzese che era a tutti gli effetti un collaboratore di giustizia anche se non coperto da anonimato. Questo signore, ha precisato il ministro dell'interno in conferenza stampa, aveva chiesto già da più di due anni e mezzo di uscire dal sistema di protezione. Vediamo ora che cosa non ha funzionato. Salvini poi si pensava facesse un sopralluogo con le forze dell'ordine sul posto del sanguinoso agguato ma in via Bovio questa mattina c'era solo un'auto dei carabinieri che presidiano l'abitazione dell'uomo, crivellato di colpi nel suo garage adiacente al portone di casa. Questo è il garage dove il giorno di Natale è stato freddato Bruzzese, a terra ancora i segni dei bossoli lasciati dai killer. Se confermate le prime ipotesi che i killer siano arrivati dalla Calabria per colpire viene da porsi una domanda sul livello di protezione dei collaboratori di giustizia e dei loro familiari. Il ministro risponde anche a questo. Sul tipo di protezione dei collaboratori di giustizia e dei familiari non è il ministro che decide per la simpatia o antipatia, sono valutazioni tecniche di altissimo livello di polizia, carabinieri magistrati che decidono chi è a rischio e chi non è più a rischio. Il mio dovere, ha precisato Salvini, è mettere a disposizione soldi per assumere più poliziotti, vigili del fuoco e carabinieri e questo c'è. Come proteggere i testimoni? Ci sono persone molto migliori di me che lo sanno fare. Ma ora, a distanza di 48 ore dalla sanguinosa esecuzione, c'è apprensione tra i cittadini e tra chi abita nella zona. Io abito qui vicino, quindi ho stato l'animo abbastanza agitato. Perlomeno non immaginavo che qui vicino ci fosse una situazione del genere. Eravamo qui al pranzo di Natale, come tutti gli anni, una mezz'ora prima che succedesse il fatto e purtroppo è successo questo brutto evento. C'è sicuramente un po' di paura, è chiaro, non dovrebbero succedere queste cose, però purtroppo è capitato.